Iele Casula, CrossFit S1, Sassani Challenge 2018, categoria Scalini. Bilancio aereo da 20 kg. 3 dischi da 10 kg. 1, 2, 3. Dentro, più di pure da dietro. Vedete anche dall'altra parte che sono uguali. Ok. Buon attore. A zero. C'è il cuore. Ok. 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 Resto qua. Sempre con il ruoto quando scende. Se vuoi la serbata in terra. Sì, quella è normale. Ok. Allora, io. Ok. Ci siamo. Daniele. Non puoi portare? No. Fabrizio. 10 secondi. Forza di Daniele. 5, 3, 2, 1. Chiamaniele. Forza. Go. 5, 3, 2, 1. 5, 4, 2, 1. 5, 4, 2, 1. 5, 4, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1. 6, 4, 3, 2, 1. 6, 7, 8, 9, 1 10, 2, 3, 14 5, 6, 7, 8 6, 7, 8 7, 8 7, 9, 9 Ma che cazzo Ha ragione, ha giù Ma che cazzo 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 Ma che cazzo